Vedi che succede a prendere testate? Ehi, aspetta un momento. Questo posto lo riconosco. Ah, sì? Sì, il raduno del salmone è vicino! Dobbiamo solo passare da quella parte. Che c'è? Ma sei, sei sicuro di sapere dove vai? Sì, sì, seguimi! Toda! 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 Dove sei? Non lo fare mai più! Ti ho spaventato, vero? C'è la paura e c'è la sorpresa. E tu hai voto tutte e due! Ci hai provato! Hai un po' di bavetta qui. Chi hai? Stavolta non ci casco! No, chi hai? Sta tanto! Scappiamo! No, chi hai dov'è sei? No, chi hai dov'è sei? A sinistra, a sinistra! No, l'altro a sinistra! Chi è? Che cosa fai? Dobbiamo andare via di qui! No! Sì, sì.